Non siamo d'accordo col governo, sì l'immigrazione è un problema epocale, ma l'emergenza sbarchi può essere bloccata. Noi chiediamo da tempo una missione militare europea nei porti della Libia per controllare la partenza, bloccare la partenza dei traghetti della morte, arrestare i trafficanti di uomini, costruire lì sul posto centri di accoglienza sotto legge da internazionale per mandare direttamente nei 28 paesi coloro che hanno diritto all'asilo. E state tranquilli che l'Europa vuole perché altrimenti senza l'Italia l'Europa non esiste.